Mentre impattugliavo la galassia, una frattura mi ha portato qui, su quest'isola. Avverto la presenza di Galactus, si avvicina ogni minuto e sicuramente non è solo. Devo trovare Iron Man, sento che è qui, in quest'isola, e sicuramente lui sa che io ci sono. Arrivo Stark, magari ci sono anche Wolverine e Cap, dobbiamo riunire una squadra se vogliamo sconfiggere Galactus. Ah, stupidi stolti, io e Galactus, domineremo quest'isola, e non pensate certo che saremo benevoli. No, noi domineremo quest'isola col pugno di ferro, e diventeremo i soprani di tutto l'universo. Ah, maledetto Doom, le tue catene non mi tratterranno, e mi toglierò questi stracci che mi hai messo addosso. Troverò qualcuno, qualcuno disposto ad aiutarmi a sconfiggerti, per sempre. Galactus e Doom stanno combinando qualcosa di grosso, e da solo non posso fermarli. Per questo, mi servirà l'aiuto di Cap, Thor, e anche la persona più forte di quest'isola, che ha già salvato quest'isola tempo fa. Il suo nome è Lix. Dobbiamo trovarlo al più presto, o saremo tutti spacciati? Dobbiamo trovarlo al più presto, o saremo più presto, o saremo più presto.